Essere tutto pronto, partiti. Thunderman, Soprandante, Lucky Loser, Utis di Breme, Trita Sass, con Thunderman di leggero vantaggio dall'esterno su Soprandante, che lascia scoperto Lucky Loser, poi Lucky Loser in corda, Utis di Breme in coda, Trita Sass. Soprandante anticipa la mossa di Lucky Loser e va sul leader Thunderman, Soprandante che a questo punto tende a non girare, vediamo un po' cosa succede perché Lucky Loser è rimasto coinvolto nella scurvata approssimativa di Soprandante. E allora davanti Thunderman nella scia Utis di Breme, allargo di tutti Lucky Loser con Soprandante in coda Trita Sass, con Lucky Loser che vuole saltare Soprandante per andare su Thunderman che agisce all'avanguardia ed in vantaggio. Thunderman, Utis, Soprandante, Lucky Loser, Trita Sass in coda, quintetto sufficientemente compatto, ma il favorito è tutto in mezzo alla pista, in anticipo costante Soprandante su di lui. Thunderman allunga ora da Soprandante, Lucky Loser, Utis di Breme in coda, Trita Sass. Nell'approccio in curva ancora Thunderman che scappa da Soprandante, da Utis di Breme, da Lucky Loser e Trita Sass. Thunderman che fugge a zampe elevate e acquisisce vantaggio ai rivali cappeggiati da Soprandante, Utis di Breme, Trita Sass e Lucky Loser. Thunderman in fuga per la vittoria, inseguito da Trita Sass, Soprandante all'esterno del tentativo disperato di Lucky Loser. Thunderman in fuga da Trita Sass, Soprandante, Utis di Breme e Lucky Loser. Nel finale Thunderman e Trita Sass se ne vanno degli avversari, li lasciano a lottare per le piazze. Per il momento con Thunderman e Trita Sass, uno davanti all'altro. C'è lotta solo per le piazze tra Soprandante e Utis di Breme, che arrivano terzo e quarto nell'ordine dietro la scuderia. Vittoria del grigio, Thunderman da un capo all'altro, a segno su Trita Sass, 4-5, a coppiata di scuderia. Terzo probabilmente Soprandante, a precedere Utis di Breme, 4-5, 3-2, è l'ordine di arrivo probabile. Il primo momento è tutto. Grazie a tutti. Premio Giacinto Fogliata, condizionata sul doppio chilometro. La vittoria al grigio Thunderman, che si afferma al rientro dal piazzamento nel premio Goldoni, handicap principale. Salvatore Sulas in sella, al figlio di Blue Air Force. Salvatore, buon pomeriggio. Inizia nel modo migliore. Com'è questo cavallo? È un buon cavallo, fa bene la distanza, però è veramente un buon cavallo. Inesperto, il posto è nuovo, però c'è un motore. Grazie a Salvatore Sulas, che vince con Thunderman, colori della D-Oscuri, training di Alduino Botti. La prova di apertura oggi a San Rossore. Grazie. Grazie. Grazie.